I bullismos penseranno i più belli che un ragazzo o una ragazza possibile. Poi il tempo passa e nasce un po' di vita. Chi non sapete che c'è sempre il futuro rispettano lo scopo di vita. La saggetta è traversata con la differenza senza voler eliminare la differenza. E se hanno imparato ad odiare possono anche imparare ad amare. Perché l'amore arriva in modo naturale in fondo al nostro cuore anche in senso opposto. Per tutte le violenze consumate su di lei. Per le umiliazioni che ha subito. Per il suo corpo che avete sfruttato. Per la sua intelligenza che avete calpestato. Per l'ignoranza di cui l'avete lasciata. Per la libertà che le avete legato. Per la bocca che le avete tappato. Per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo. E' in piedi signori davanti a una donna. E' inizio ciò che gli pare. E non vede ciò che vi dico. Amore. Amore. Il più potente è attivo del futuro del futuro del futuro. Ciò nonostante. Purtroppo si è dimostrato quasi sempre l'implicante. Nel caso di pazienti cronici. Affetti da monofilia, nazismo, sessismo e altre malattie del genere. E' inizio solo di pazienda. E' una donna, non c'è nessuno. E' una donna, non c'è nessuno. E' un paio avverso. E' una donna. E' una donna. Per la sua barra. E' una donna. E' un paio. E' una donna. E' una donna. E' una donna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.